Un anno e già un anno, eppure sembra ieri quanto nel cuore di Berlino si scatenò la violenza umana. 12 morti, 48, feriti, numeri che non passano di mente, soprattutto perché nell'elenco delle vittime c'è anche la giovane di Sulmona, Fabrizia Di Lorenzo. Terrore e fatalità si sono strette la mano a quel terribile 19 dicembre 2016. Fabrizia sarebbe tornata di lì a poco a Sulmona per le feste natalizie, ma prima ha voluto far visita ai mercatini di Natale, poco dopo le 20 di quel lunedì trovo la morte. Il ricordo della tragedia c'è del passo però alla forza della cultura. È stato un po' il motto dell'incontro di Battiro di ieri pomeriggio al Teatro Caniglia che ha visto la partecipazione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Lennini, della Senatrice Paola Pelino e del Sindaco Ana Maria Casini, ma anche della schiera di forze dell'ordine con i vertici più alti in grado. Se la foglia omicida di quel tir che ha fatto fuori 12 persone, spezzando storie e esperienze diverse, nasce ancora tanta rabbia, a un anno di distanza si prova a reagire sfoderando l'arma della cultura, ricordando chi è stata questa cittadina del mondo, Fabrizia Di Lorenzo. La ragazza era una delle tante giovani che sognavano la normalità, laureata all'Università di Sapienza in Roma in mediazione linguistico-culturale, dal 2009 al 2012 ha preso una laurea specialistica a relazioni internazionali e diplomatiche a Bologna, poi l'esperienza dell'Erasmus in Germania, dove ha imparato il tedesco come l'inglese in maniera perfetta, nel 2007 un periodo di lavoro a Vienna. Dopo le lauree lavorò per sei mesi, fino a settembre 2012 in Italia, poi il trasferimento a Berlino, dove si trovava bene, aveva trovato un lavoro. Il 10 gennaio 2018 a lei sarà intitolata l'aula 3.0 del liceo linguistico, mentre nei pressi del Vigo a primavera sorgerà un monumento, tutti i segni per far riflettere le nuove generazioni e quelle attuali, anche per non dare la soddisfazione a chi semina terrore di averla vinta. La violenza genera violenza che si ferma però davanti alle armi della cultura.